Ho la leucemia linfatica cronica dal 2011 e sono monitorata ogni quattro mesi, non avendo grandi problemi. I globuli bianchi sono ballerini, non hanno mai superato i 16.000, ultimamente continuano a scendere, ora sono 12.800. L'alimentazione è molto controllata, può contribuire a farli scendere? Direi che no, l'alimentazione non ha nessuna influenza sull'andamento della patologia e quindi intanto con questi valori può continuare a fare il suo follow up tranquillamente. Un'alimentazione controllata fa bene perché un individuo può avere delle comorbidità e quindi un'alimentazione ben controllata fa bene a tutti noi, quindi maggiormente anche a paziente. Sicuramente non influenza, che io sappia, l'andamento della malattia.